disturbo narcisistico di personalità o disturbo bipolare se dice di essere l'arcangelo gabriele e altre cose può avere anche tratti psicotici come il sassofonista di turno non ho capito sono uno studente di psicologia quindi le cose le so perché le ho studiate quindi ho tutto il diritto di scrivere delle ipotesi basate sul mio studio se sassofonista una presa in giro se la tenga per lei no ma guarda che ti stai sbagliando lui ce l'aveva con me sono io sassofonista ma poi in che modo la parola sassofonista dovrebbe essere un'offesa facciamo così schifo egregio sommo dottor mi scuso se con cotante volgarità ho offeso suo intelletto e di suoi studi appassionati cordialmente non ho nulla contro i sassofonisti anzi mi piace come strumento sbagliato nei modi nella risposta ho interpretato male la risposta non mi sento nessun modo superiore a nessuno pensavo che fosse una provocazione ma invece ho capito che fosse una risposta ad un altro commento tranquillo non ti preoccupare tranquillo non ti preoccupare è部分 mi appassionati braggamenti nella risposta Grazie a tutti.